Ben ritrovati a questa nuova edizione con CIN4ME News. Dal 1 giugno 2012 sarà attribuita al prefetto la decisione sull'accolimento dell'instanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia. Naturalmente il prefetto deciderà anche l'eventuale respingimento dell'instanza per motivi ostativi. Se il coniuge straniero alla residenza all'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è invece il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. E quanto prevede con alcune eccezioni una direttiva del Ministero dell'Interno. La direttiva ha come scopo l'ulteriore stelmento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimoni. Arrivano i primi dati riguardanti le domande relative al decreto flussi stagionali 2012. Verso la fine di aprile il numero di istanze inviate tramite il servizio di inoltro telematico era circa quota 40.000. Quasi 18.000 domande sono state inviate da associazioni e patronati, un migliaio da consulenti del lavoro e quasi 21.500 da privati. Ricordiamo che i datori di lavoro possono richiedere nulla osta per i lavoratori non comunitari residenti all'estero fino alle ore 24 del prossimo 31 dicembre. Utilizzando il sistema online predisposto dal Ministero dell'Interno. Il decreto flussi stagionali 2012 prevede 35.000 quote per lavoro stagionale già ripartite sul territorio nazionale. Nell'ultimo decennio la popolazione straniera abitualmente dimorante in Italia è quasi triplicata, passando da poco più di 1.300.000 a circa 3.770.000. L'incidenza degli stranieri sul totale della popolazione è salita quindi da 23,4 a 63,4 per 1.000 censiti. I dati arrivano dall'Istat che ha presentato i primi risultati del quindicesimo censimento. Già lo scorso mese di gennaio tuttavia l'Istat affermava nel rapporto Noi Italia che rispetto al 2001 gli stranieri sono più che triplicati. L'Istituto Nazionale di Statistica aggiungeva però che nel 2010 il ritmo di crescita è stato meno sostenuto degli anni precedenti, fermandosi al 7,9%. Il trend di aumento degli stranieri in Italia appare quindi in calo. E' ripartita a culture da vicino la trasmissione del C-Informi dell'Assessorato Provinciale alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza. Realizzata da TCA Trentino TV. E' tornato quindi l'appuntamento con la rubrica che approfondisce la cultura, le tradizioni, il visuto e i percorsi migratori dei nuovi trentini. Culture da vicino va in onda il martedì ogni due settimane alle 20.30. Prima replica martedì ore 23.15 e seconda replica venerdì ore 15.30. Nella prima puntata andata in onda il 1 maggio e ora disponibile sul sito www.trentinotv.it si parla dei progetti che intendono promuovere la cultura del lavoro femminile tra le donne di origine immigrata che vivono sul territorio provinciale. Ed eccoci alla fine anche di questa edizione. Grazie per la vostra attenzione. Un augurio di trascorrere giorni sereni a risentirci. Grazie.